Siamo qui in fiera e abbiamo incontrato un altro allevatore di nome Quaini Paolo, prego. Buongiorno, piacere Quaini Paolo, Castelverde Holstein. Dunque, perché ha deciso di portare le vacche in fiera? Perché da anni, partendo da mio nonno e poi mio padre, abbiamo sempre fatto una selezione genetica che portava ad avere uno sviluppo della razza frisona e questo è un luogo perfetto per incontrarsi e confrontarsi con altri allevatori, imparare, condividere e quindi è sempre un piacere trovarsi in mezzo alle fiere. E dunque, quali sono state le sue impressioni di questa fiera, dell'edizione di quest'anno? Ma, a dir la verità, per quanto riguarda noi, deve ancora avvenire oggi e domani lo show, le mostre e tutto quanto. Sicuramente ci sono degli ottimi animali e il risultato della genetica si vede, ecco. Grazie mille. Grazie a tutti.